Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Giovanni 1.1 Il potere della parola di Dio Nel principio Dio ha cominciato un'opera per il tramite della sua parola, dando inizio così alla creazione. Ha parlato e le cose sono avvenute. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Genesi 1.3 Dio disse, produca la terra, e così fu. Genesi 1.11 In seguito Dio ha parlato al suo popolo, ai suoi profeti, ai suoi servi, ai suoi figli e ha continuato fino ai giorni nostri. Oggi, a distanza di migliaia di anni, Dio sta ancora parlando. Se tu glielo permetterai, egli si rivelerà a te e sentirai anche tu la sua voce. Aprigli il cuore, e da sua creatura diventerai suo figlio. La potenza della sua parola ti trasformerà, esattamente come ha trasformato le tenebre in luce. Questo giorno per te può essere un nuovo inizio, con nuovamente un nuovo cuore per abbandonarti nelle sue mani, credendo fermamente in quello che egli ha detto per fare la sua benedetta volontà.